Ritorna Reno Road Jazz, settima edizione con la direzione artistica di Sandro Comini, promossa e organizzata dall'Unione Reno Galliera, in collaborazione con Made in Bo Radio TV. Sei serate di musica live per gli amanti del jazz, blues, soul and swing, che si svolgeranno dal 24 giugno al 29 luglio. L'ingresso sarà gratuito e contingentato nel rispetto delle norme anti-covid. Scopri il programma sul sito www.renogalliera.it Per informazioni e prenotazioni, 351 677 72 73 oppure manda una mail a infochiocciolaslidemusic.it Reno Road Jazz 2021 Le serate saranno trasmesse live da Made in Bo TV sul canale 210 del Digitale Terrestre.